I valori sono vicini tra voi a Modena? Sì, sono due squadre di altissimo livello con grandi obiettivi, noi abbiamo dei campioni, loro anche, quindi la differenza hanno fatto due paloni, avete visto oggi, che eravamo lì fino alla fine, però una di noi doveva vincere, quindi complimenti a loro, ci brucia perché io potevo chiuderla, non è andata bene, però complimenti a loro. Hanno giocato meglio di noi. Tanto quanto voi, loro giocano ogni tre giorni, a che punto siete? Quanto resisterete a questo ritmo? Fammi una domanda, però è difficile, è difficile perché non c'è mai una pausa, adesso noi dopo domani partiamo subito per la Repubblica cieca, sappiamo che giochiamo, dopo scendiamo senza recupero, andiamo a Molfetta, quindi è così, è così, lo sapevamo, non è colpa nostra se questo calendario è così, noi dobbiamo solo scendere in campo e giocare. Prego. 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 Grazie a tutti.